Bentornati a Sfumature Verdiane, continuiamo ad analizzare Nabucco con Pierachille Dolfini che ci racconterà in un minuto e quaranta la trama di Nabucco. Qualcuno avrebbe voluto il vapensiero da Nabucco di Giuseppe Verdi come l'inno italiano, ma è un coro di un popolo oppresso e non ha quel piglio patriottico che servirebbe per un inno nazionale. Certo, nel 1842, quando Verdi scrive Nabucco e romana in scena con grande successo al teatro alla Scala, gli ebrei erano un po' lo specchio dei milanesi oppressi dagli austriaci. Nabucco Donosor, il titolo completo Nabucco, nell'abbreviazione così come la conosciamo oggi. Nabucco parte da un fatto storico, la distruzione del Tempio di Salomone nel 586 avanti Cristo con la conseguente deportazione degli ebrei a Babilonia. La storia diventa poi un romanzo con la lotta tra le due figlie del re di Babilonia, da una parte la figlia legittima Fenera e dall'altra la figlia adottiva Abigaille che scopre di essere figlia di schiavi e pertanto giura vendetta, tanto più che il re Nabucco, suo padre, partendo per la guerra, ha lasciato il regno in mano alla sorella Fenena e non a lei. Il re, tornando, sventa questo colpo di stato da parte di Abigaille, rimette la corona sul suo capo, ma quando si proclama Dio un fulmine lo rende demente. Abigaille allora approfitta della situazione, raccoglie la corona, si autoproclama regina di Babilonia e manda a morte tutti gli ebrei, compresa la sorella Fenena che nel frattempo, per amore di Ismaele, un ragazzo di Gerusalemme, si era convettita anche lei all'ebraismo. Nabucco però riesce a rinsavire, con l'aiuto dei suoi provi, corre a fermare l'esecuzione di Fenena. In quel momento l'idolo di Beloch, un po' l'idolo del popolo di Babilonia, si infrange. Abigaille ormai sconfitta, muore dopo essersi avvelenata. Nabucco riconosce come unico vero Dio il Dio degli ebrei Yahweh, si converte all'ebraismo e promette che ricostruirà il Tempio distrutto. Ecco, ringrazio Pierachille Dolfini che fra l'altro ha un blog che si chiama Un'opera in tre minuti. Andate a vedere il suo blog e scoprirete le trame delle opere appunto in tre minuti. Passiamo ora ad un giornalista. Sto parlando di Alberto Mattioli. Alberto Mattioli avrà il compito di raccontarci cosa ci può essere di contemporaneo in un'opera che parla di ebrei e babilonesi. Buongiorno. Nel chiedersi cosa c'è di contemporaneo in Nabucco, o meglio per cercare di rispondere alla domanda che poi quella che ogni interprete dovrebbe porsi, cosa c'è di presente in quel passato, che è poi la ragione per la quale quel passato continuiamo a riproporlo. Ecco, nel caso di Nabucco dobbiamo prima sgombrare il campo da un equivoco che l'opera si porta dietro da troppo tempo, cioè quella di essere un titolo risorgimentale. Nel senso che noi non sappiamo se per Verdi e soprattutto per il pubblico che quel 9 marzo 1942, la scala assiste alla prima dell'opera, gli ebrei in cattività babilonese che piangono la patria si bella e perduta, siano effettivamente gli italiani dell'Italia post-restaurazione. Direi che quasi tutti gli indizi ci portano a credere che così non fosse. In realtà Nabucco non nasce come opera risorgimentale ma lo diventa, nel senso che a cose fatte, ai tagli a fatta, e fatta anche da Verdi, si viene realizzato dalle classi dirigenti della neonata Italia Unita un processo di quelli che la geopolitica anglosassone chiama di nation building, cioè una ricostruzione mitica, leggendaria della storia nazionale, in particolare del passato prossimo, dove tutto sembra convergere verso questa sospirata unità. Il Nabucco chiaramente viene arruolato in questa operazione di fare gli italiani e come tale assumerà poi nel corso degli anni questo valore appunto non solo di capolavoro musicale ma di testo fondante del nuovo patriotismo italiano. Ha però scoperto per esempio Roger Parker, il curatore dell'edizione critica dell'opera, la recensione di un importante periodico bolognese dell'epoca, teatri, arti e letteratura, che nel 1848, quindi l'anno delle rivoluzioni, l'anno della prima guerra di indipendenza, recensendo Nabucco al Teatro San Carlo di Napoli, dice che l'opera non ha successo perché nel clima appunto sovrecitato di quei giorni non viene trovata abbastanza patriottica, quindi paradossalmente viene accusata del contrario. Quindi sgomberato il campo da questo equivoco, che è un equivoco di Nabucco, opera risorgimentale, c'è però un aspetto che a me sembra estremamente contemporaneo, direi dolorosamente contemporaneo, in quest'opera, sul quale io se facessi regista, cosa che per fortuna non faccio, punterei, e cioè l'uso politico della religione. In entrambi gli antagonisti, che sono Nabucco Donosor, leader re degli assiri oppressori, e Zaccaria, leader politico e religioso degli ebrei oppressi, il binomio fra religione e politica è inscindibile. Nel caso di Nabucco, addirittura, e questo veramente è interessantissimo, si arriva a una sorta di divinizzazione del leader, un processo di sacralizzazione del comandante, del conducente, del duce, del führer, chiamatelo come volete, di cui abbiamo infiniti esempi nella storia, per esempio, del Novecento. Tanto che Estia Bambucchi, in un bellissimo saggio, titolato Nabucco Tecnocrate, sul programma di sala dell'ultima produzione del Teatro alla Scala, indicava come, diciamo, ultimo esempio, se non altro per il fatto che le loro vicende si svolgono nella stessa terra, nella Mesopotamia, attuale Iraq, ultima incarnazione di Nabucco, di questa visione di Nabucco, Saddam Hussein. Verdi spazza via, diciamo, nella sua opera, l'aspetto amoroso. La storia d'amore fra Fenene e Ismaele viene ridotta veramente ai minimi termini, giusto per quel minimo necessario per la comprensione della vicenda. E invece focalizza la sua tensione sul personaggio di Abigail, altra figura, secondo me, di sconcertante modernità. E, se ci pensate, è abbastanza insolita per i criteri dell'epoca, perché qui abbiamo una prima donna romantica che sacrifica tutto, fino alla sua stessa vita, al potere e non all'amore. In questo senso mi sembra che Abigail sia una figura uguale e contraria a quella di Giovanna d'Arco, cui poi Verdi dopo tre anni si occuperà, che invece sacrificava tutto alla chiamata religiosa. Ecco, mi sembra che questa figura colossale, ambiziosa, tragica, questa Margaret Thatcher babilonese, di donna in carriera, sia una figura veramente, estremamente contemporanea. Beh, in effetti l'opera parla di ebrei e babilonesi, ma da sempre è stata citata come l'opera più risorgimentale di Verdi, tanto che, come ci diceva appunto Pierachille e Dolfini, in molti hanno spinto affinché il vapensiero diventasse addirittura l'inno nazionale, e quindi ben molto dopo l'epoca di Verdi e del Risorgimento. Ecco, Alberto Mattioli sottolinea un altro aspetto molto importante, che è quello della grandezza del ruolo di Abigail, e della novità soprattutto del ruolo di Abigail all'interno dell'opera lirica. Sottolinea anche l'aspetto del Nabucco, uomo di potere e uomo di potere religioso. Ma in Nabucco inteso come padre? Di questo aspetto ci parla Bruno Taddia, un baritono. A lui ha il compito gravoso di accompagnarci in tutte le puntate, anche quando andremo ad analizzare le altre opere, del ruolo del padre nelle opere di Verdi. Se andiamo a rovistare nel grembo etimologico della parola padre, o anche patria, scopriamo che la radice indoeuropea pa allude al senso della protezione. Padre, pertanto, sarebbe quella figura che protegge in una funzione salvifica necessaria alla vita. Su questo sfondo noi possiamo allora andare a individuare il vero protagonista di quest'opera. Un protagonista sempre citato, sempre all'uso, diciamo, di cui tutti parlano e che pure non si vede. Il protagonista è presente nelle quattro citazioni anteposte alle quattro parti che compongono l'opera. Le citazioni sono dal libro di Geremia. Ad un titubante Geremia, il Signore assicura la sua protezione al popolo di Israele, all'interno di una nuova alleanza, trovandosi, il popolo di Israele, sotto il gioco dei babilonesi. E Dio esplicita la sua unione all'interno della figura del padre. Infatti lui dice, Geremia 31, 9, Io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primo genito. Quindi Dio, il Signore di Israele, è il padre di tutti i padri. Temistocle Solera incardina l'intero Nabucco su questa figura salvifica e paterna, il Dio di Israele, padre di tutti i padri, che guida e protegge il suo popolo, ma che anche è in qualche modo l'agoniato a prodo, quel lamen ultimativo a cui tutto deve tendere. È un po' questo quello che afferma Zaccaria nella prima scena, no? Sperate, figlio. In cui è istituito questo rapporto stretto di paternità tra Dio e il suo popolo. Andiamo allora a vedere invece le dinamiche di questa famiglia accadica, protagonista dell'opera, direi piuttosto disfunzionale. Abbiamo due figlie, Fenena e Abigaille, Abigaille adottiva, che in qualche modo si ribellano all'autorità paterna, proprio, come dire, accusandolo di venire meno della sua funzione protettiva. Fenena, in una di quelle frasette che conoscono solo i mezzi soprani perché avvengono negli assieme, dice padre, vicino a morte per te qui sono. Eccola l'accusa lanciata. E quindi entrambe le figlie inizieranno un processo che le porterà ad abbracciare il vero Dio, quel Dio ultimativo e protettivo e salvifico. Con due processi uguali e contrari perché il processo di Fenena sarà all'insegna dell'amore e della conversione. Mentre invece quello di Abigaille è in qualche modo bascula tra l'odio e la ribellione e invece poi successivamente l'espiazione e il perdono. Andiamo allora a mettere sotto la lente di grandimento questo padre così fortemente messo in discussione. Certamente non ci sembra un padre affettuoso soprattutto all'inizio ed è un padre che in qualche modo diserta alla sua funzione. Impegnato in questa spasmodica e rapace affermazione di sé in realtà Nabucco fa anche un'altra cosa molto interessante ovvero va a negare l'esistenza di Dio proprio perché sottolinea quanto Dio abbia mancato rispetto alla funzione paterna della protezione rispetto al suo popolo. Infatti cosa dice a Zaccaria? Gli dice ma io l'ho chiamato questo Dio è venuto non si è presentato ha marcato visita sottolineandone l'assenza quindi lui stesso si sostituisce a Dio e in questo modo peccando di tracotanza di hubris direbbero i greci e con questo atto sacrilego viene punito ma questa punizione è l'inizio di un processo che in qualche modo lo renderà figlio di quel padre e soltanto questa è la scena Dio di Giuda è alla consapevolezza di essere figlio di quel padre e quindi è solo all'interno di questa consapevolezza che in qualche modo può avvenire il rispecchiamento con il padre condizione di possibilità perché lui stesso divenga padre di quei figli di quel popolo all'interno di una nuova alleanza che in qualche modo è sancita dalle ultime parole di Zaccaria servendo Jehova sarai dei regi re ed ecco che questo calvario dello spirito che ha preso Fenena, Abigail e Nabucco trova un compimento straordinario in questa figura paterna protettiva e salvifica Dio non posso che ringraziare gli ospiti di oggi e non posso che ringraziare voi che state continuando a seguire questa rubrica verdiana l'appuntamento è ancora con Nabucco a domani 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 Grazie a tutti